Massimo Fiorenzuali in vantaggio e poi l'1-2 del Ponsacco che ha tenuto il risultato fino alla fine ed è passato ai quarti di finale. Sì, da un lato c'è soddisfazione perché comunque oggi abbiamo provato parecchi ragazzi che magari in campionato non avevano avuto una grande continuità di impiego e hanno fatto bene la loro parte. La squadra secondo me complessivamente non si è mossa male, ha fatto un inizio veramente ottimo, però purtroppo è emerso anche oggi un problema che dobbiamo assolutamente risolvere a livello di personalità, a livello di tenuta mentale perché non si possono assolutamente concedere neanche 10 minuti a questo livello. E noi dopo aver fatto l'1-0, dopo aver preso l'attraverso, una volta che avevamo visto che l'avversario era in difficoltà, avremmo dovuto continuare ad affondare i colpi. Invece non abbiamo continuato a proporci come i primi minuti e abbiamo subito questi due gol nei quali abbiamo delle gravissime responsabilità. Anche nel secondo tempo tanta generosità, tanto impegno, però è mancato un po' di lucidità. Ma sì, secondo me a tratti non abbiamo giocato male neanche il secondo tempo, sicuramente non come avevamo iniziato la partita, però i ragazzi hanno dimostrato carattere e io sono convinto che se quel carattere ci fosse stato nella fase iniziale del primo tempo, una volta andato in vantaggio e forse è stato messo sul campo per cercare di raddoppiare e cercare di creare un baratro fra noi e loro, credo che sarebbe stato molto più apprezzabile. È inammissibile che questa reazione ci debba essere sempre quando si sono prese delle scopole. Dobbiamo assolutamente crescere e capire che quando la partita si mette bene è lì che deve subentrare ancora maggior foro regolistico per difendere il risultato, perché a noi invece sta capitando spesso e volentieri che si va in vantaggio e si subisce in maniera inopinata il ritorno degli avversari, spesso rimettendoli in gioco con errori veramente marchiani. Quindi su questo dobbiamo assolutamente e tassativamente cambiare registro.